Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una sequenza di pilates dedicata al rinforzo e alla tonificazione degli addominali e lavoriamo diverse posizioni sul tappetino proprio per poter lavorare il retto dell'addome, gli obliqui, per essere consapevoli comunque del nostro pavimento pelvico e del trasverso. Se dovessi avere particolare sensibilità a livello cervicale o condizioni come una diastase addominale o un'ernia etale per cui è consigliabile non sollevare la testa, quindi non creare eccessiva iperpressione intra addominale, puoi tenere la testa in appoggio, lavorare dove possibile con le tue gambe, fai solo attenzione a proteggere non solo la zona cervicale o la tua condizione ma anche la zona lombare, quindi puoi modificare le linee sulle quali lavorano le tue gambe proprio per rimanere in un tipo di allenamento sicuro per questa zona, le zone sensibili. Prima di iniziare ti ricordo che nella descrizione di questo video trovi il link a nuvola pilates, la mia scuola online, dove trovi un abbonamento mensile che comprende video di pilates tradizionale, diffusioni con la danza, con lo yoga, puoi fare per questa sezione una prova gratuita di 7 giorni per visionare i contenuti e poi decidere se iscriverti all'abbonamento in modalità mensile, semestrale o annuale. In due sezioni separate invece trovi i corsi base intermedio avanzato che affrontano il repertorio tradizionale di pilates matwork e il corso di pilates al muro, 10 video che esplorano le potenzialità del muro come supporto alla pratica di pilates. Io direi che siamo pronti per partire, quindi srotola il tuo tappetino e alleniamoci insieme. Partiamo dalla posizione supina, senza spessori sotto la testa se sei comunque abituato a metterli, proprio per andare a massaggiare un pochino la colonna prima di iniziare la nostra sequenza di addominali. Prendiamoci un attimo per sistemare la cervicale in allungo, quindi puoi fisicamente spostare la testa per migliorare nella posizione, senti le scapole, le coste bene in appoggio, andiamo a cercare la piccola curva lombare senza inarcare, senza andare però a schiacciare completamente ancora sul tappetino, sentiamo il peso dell'osso sacro, quindi di quella parte finale della nostra colonna insieme al coccige che è pesante rispetto al tappetino. I piedi sono paralleli, le braccia distese lungo i fianchi, ora inspira, prepara ed espirando retroversione del bacino, mentre il bacino sale porta le braccia verso l'alto e se possibile andiamo ad appoggiare le braccia oltre la testa. Inspira, rimani un secondo ed espirando mentre la colonna scende anche le tue braccia ritrovano la posizione di partenza. Inspira, prepara ed espira, retroversione le braccia salgono se possibile ad appoggiarsi oltre la testa. Inspira, rimani un secondo ed espira dall'alto verso il basso, ritorna giù, neutro del bacino e di nuovo inspira, prepara, fuori l'aria retroversione, solleva. Inspira quando sei in quota ed espirando articola la colonna, massaggia la tua schiena e intanto le braccia scendono. Facciamone ancora un paio, inspira, prepara ed es retroversione, solleva, inspira, rimani ed es articola la tua colonna per tornare nella posizione da cui sei partito e di nuovo l'ultimo, inspira, prepara ed es retroversione, glutei che si attivano, gambe nella parte posteriore bene attivate, inspira, tienilo ed espira dall'alto verso il basso, ritorna in posizione di partenza. Quindi da qui se la tua abitudine è quella di avere un piccolo spessore sotto la testa per migliorare la cervicale, assolutamente metti quel piccolo spessore. Partiamo con le braccia allungate verso l'alto, spalle lontane dalle orecchie, quindi andiamo a stabilizzare le nostre scapole, andiamo a fare una micro retroversione, quello che chiamiamo imprint e solleviamo la gamba destra in tavolino. Ora questa gamba fa un tap, parliamo di tap del piede quando la coscia si sposta in avanti e l'angolo rimane di 90 gradi e poi andiamo ad allungare la gamba in direzione opposta rispetto all'allungo che fanno le braccia. Inspira, prepara, quindi un tap del piede, es, inspira, ritorna, un allungo braccio e gambe in opposizione, inspira, ritorna, fuori l'aria, tap, inspira, stabilizza bene il tuo bacino per sostenere la tua gamba e ancora fuori l'aria, usa il respiro, fuori l'aria mentre allunghi, inspira, ritorna, avanti ancora, scendi, risali, allunga e ritorna e facciamo l'ultimo, coscia che si sposta in avanti, angolo sul ginocchio primario di 90, allunga in avanti, ritorna e cambiamo gamba. Quindi prima di partire attiva gli addominali, anche leggermente andando a schiacciare la colonna sul tappetino, solleva la tua gamba sinistra, tavolino, inspira, primo tap del piede, fuori l'aria, scendi, inspira e allunga le braccia in opposizione rispetto alla tua gamba e ritorna al centro, fuori l'aria, scendi, risali, allunga e ritorna. Qui porta le braccia verso la testa, sono fino a dove senti che non ci sono fastidi, quindi rimangono sicuramente sospese rispetto al tappetino, fuori l'aria e ritorna, allunga e ritorna, avanti ancora per tre e ritorna, allunga e ritorna, avanti per due e ritorna, fuori l'aria, allunga e ritorna, facciamone ancora uno e ritorna, allunga e ritorna e anche qui puoi rilassare un secondo le braccia e la tua gamba. Proviamo ora ad andare in una retroversione un pochino più netta, quindi andiamo a tenere la parte superficiale dell'addome, solleviamo una gamba in tavolino, solleviamo l'altra gamba a tavolino, uniamo bene le gambe e andiamo a portare le mani dietro la nuca, quindi i gomiti fanno una sorta di V non troppo chiusa, ora cominciamo, inspira, prepara, fuori l'aria, solleva il busto, ora allunga in avanti la tua gamba a destra, ripiegala, ritorna con il busto in appoggio, alterniamo gamba ogni volta, solleva il busto, stendi la tua gamba in avanti, ripiega, unisci e alla fine ritorna, fuori l'aria, solleva, puoi riprendere un piccolo ispiro ed espirare qui, ritorna e scendi, chiudiamo bene le coste verso il bacino quando stendiamo in flessione, stendi in avanti la tua gamba, ripiega e ritorna e di nuovo fuori l'aria, solleva, allunga, ripiega e ritorna, avanti ancora, sali, stendi, piega, ultime due ripetizioni, fuori l'aria, allunga in avanti, ripiega il tuo ginocchio, scendi e avanti ancora, solleva, allunga, ripiega e ritorna e delicatamente riappoggia un piede e poi l'altro, riportiamo i piedi non troppo vicini ai nostri glutei e cominciamo a lavorare su una leva o leggermente più lunga, quindi cominciamo a sollevare la gamba a destra, la portiamo distesa verso l'alto mentre facciamo flessione con il piede a martello, tiriamo la punta mentre la gamba scende, risale e poi mentre la gamba riappoggia, anche il busto riappoggia, piede a martello per salire, quindi andiamo a strecciare un pochino la nostra gamba nella parte posteriore, il busto rimane, punta per scendere, risali e riappoggia insieme braccio, testa e gamba e di nuovo solleva, allunga, punta per scendere, risali e ritorna e avanti ancora, stendi, scendi, sali e ritorna, avanti ancora, tallone che cerca il soffitto, punta del piede che scende, risali e ritorna, anche con la testa, avanti ancora, solleva, scendi, sali e ritorna, ora partiamo da una retroversione del bacino, sollevando le gambe una dopo l'altra in tavolino, andiamo a stendere le gambe verso il soffitto, quindi qui se possibile le stendi, altrimenti le tieni leggermente piegate, non forzarlo sulla tua schiena o sui flessori e sulle cosce, quindi fino a dove è possibile distenderle, le mani partono dietro la luca, ora inspira, prepara, espira, solleva il busto, ruotalo verso destra, andiamo ad allungare il braccio sinistro oltre la coscia destra, inspira, ritorna al centro e cambiamo direzione, fuori l'aria, svita il busto, inspira, ritorna, fuori l'aria, allunga tre, inspira, scendi avanti, fuori l'aria quattro e ritorna, avanti ancora, sali cinque, inspira, scendi fuori l'aria sei e ritorna, avanti ancora, sali sette e scendi, avanti fuori l'aria, otto, cerchiamo di sollevare entrambe le spalle, facciamo gli ultimi due, sali nove, inspira, ritorna, avanti ancora dieci, ritorna, ora qui se possibile solleva il busto, rimane in flessione, le gambe scendono una alla volta, fuori l'aria, ritorna su, cambia gamba, sinistra due e il busto bene stabile in flessione, tre, inspira, risali, fuori l'aria quattro e ritorna, avanti ancora, cinque, chiudi bene le coste verso il bacino, fuori l'aria sei, avanti ancora, scendi sette e risali, avanti otto, ultimi due se possibile, ancora scendi nove, ritorna, avanti dieci, risali, piega le gambe, incrocia pure le caviglie, appoggia la tua testa, prenditi un attimo magari per dondolare con il bacino destra e sinistra e massaggiare un pochino la zona lombare. Quando è possibile riportiamo le gambe verso il tavolino e andiamo a fare una, diciamo, una variante di teaser in cui teniamo le gambe per adesso sempre in tavolino. Le braccia faranno un cerchio e ci permetteranno di aiutare il movimento di flessione e di salita del busto verso la posizione di teaser. Quindi braccia stese verso l'alto, gambe bene unite, inspira, prepara, espira, cerchio, fletti il torace e manda leggermente più avanti le tue gambe, fermati qui. Puoi sempre agganciare le gambe dietro le cosce per aiutare la fase di salita, inspira, prepara ed espira, scendi, le braccia ripassano dall'esterno e rivanno verso la testa. inspira, braccia, fuori l'aria, solleva. Quindi cerchiamo quell'appoggio verso il sacro appena dietro gli schi e poi srotola indietro, frena, riallunga, riapri e riporta le braccia oltre la testa. Inspira, fuori l'aria, sali, quindi gradualmente arriva qui, inspira, prepara ed escendi. Ancora un paio se possibile, inspira, le braccia passano dall'esterno, fuori l'aria, solleva, inspira, rimani ed es, ritorna giù. Facciamo l'ultimo qui, inspira, le braccia passano dall'esterno, fuori l'aria, solleva, inspira, rimani ed es, ritorna, allunga. Anche qui possiamo prenderci un attimo di riposo e proviamo invece a creare lo stesso movimento ma ad allungare le gambe nella parte di salita, quindi creare una posizione di teaser vero e proprio. Quindi anche qui attivazione addominale, una gamba a tavolino, l'altra gamba a tavolino, le braccia partono sempre verso la testa. Inspira, prepara, fuori l'aria, mentre sali allunga le tue gambe, quindi possiamo cercare quella linea delle braccia parallela a quella delle tue gambe. Mentre scendi, ripiega le ginocchia, le braccia fanno lo stesso cerchio reverse. Inspira, prepara, fuori l'aria, solleva, stendi le tue gambe, quindi cerca quelle linee parallele e poi di nuovo frena la discesa, allunga le braccia oltre la testa e di nuovo inspira, fuori l'aria, le gambe si allungano, andiamo ad allungare anche le braccia, inspira e scendi, frena la discesa, se possibile ne facciamo ancora uno e di nuovo inspira, prepara, fuori l'aria, solleva, allunga le tue gambe, braccia e gambe parallele e poi ritorna giù e rilassa, anche qui prendiamoci un attimo di tempo, ovviamente strecceremo un pochino tutte le parti del corpo che stiamo lavorando, anche a livello di flessione delle anche. E qui giriamo sul fianco sinistro, andiamo ad appoggiare l'avambraccio sinistro, la gamba sinistra è piegata, la gamba destra invece è allungata e cerchiamo quella linea spalla anche a caviglia, la mano destra può rimanere dietro la nuca e puoi sempre rivolgere lo sguardo verso il tappetino se senti troppo carico nei flessori del collo, che in ogni caso devono comunque un pochino lavorare. Quindi qui lavoriamo sull'oblico sinistro che ci spinge verso l'alto, facciamo salire il nostro bacino, inspira, prepara ed espira, solleva per uno e scendi, fuori l'aria, due e quasi non appoggiare quando torni, tre e scendi, avanti, quattro e ritorna, avanti, cinque, avanti, fuori l'aria, sei, ancora sali, sette, avanti, sali, otto e ritorna, avanti, nove, ancora uno, dieci, ritorna. Ora da qui scivola in appoggio su entrambi gli avambracci, scarica bene le tue spalle, piccola retroversione senza esagerare nel crollare indietro verso la zona lombare, una gamba a tavolino, l'altra gamba a tavolino, diamante, quindi andiamo a sistemare le gambe in rotazione esterna, puoi creare un contatto tra i talloni o tra le punte dei piedi, purché le tue caviglie siano dritte e andiamo a fare un toe taps in rotazione esterna, quindi una gamba scende, l'altra sale e continua a scambiare e scambia e scambia e scambia, spalle sempre lontane dalle orecchie, avanti, scambia ancora per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ritorna anche verso il tavolino, riappoggia i tuoi piedi, giriamo di nuovo sul fianco su cui eravamo sdraiati, riportiamoci in posizione con la gamba sopra distesa e andiamo questa volta a sollevare il bacino e sollevare leggermente anche la gamba, partiamo col braccio destro allungato oltre la testa, inspira ed espira, piega il ginocchio, il gomito, il tuo bacino scende leggermente e risali, fuori l'aria, due e riallunga, avanti, tre e ritorna, ancora quattro, respira, avanti, cinque e ritorna, ancora sei e riallunga, avanti, sette, avanti, ancora otto, ultimi due qui, ancora nove e riallunga, avanti, dieci, stendi, riappoggia e ci prendiamo un attimo qui per allungare quell'oblico sinistro, quindi andiamo a stiracchiare un pochino, puoi guardare, portare lo sguardo verso i tuoi piedi qui, scarica la spalla verso la quale stai andando e poi cambiamo direzione. Quindi anche qui andiamo a sistemare bene l'avambraccio in appoggio, la gamba sopra è distesa, allineata, spalla, anca, caviglia, mano o sul fianco dietro la nuca e cominciamo a sollevare il bacino e ritorna, piccola salita, due e quando scendi prova a non riappoggiare totalmente, tre, avanti, sale, quattro e ritorna, avanti, cinque, ancora fuori l'aria, sei, avanti, sette e ritorna, avanti, otto, ultimi, due e qui ancora nove, sul prossimo fai una micro tenuta di un paio di secondi, ritorna giù, ci giriamo ancora verso gli avambracci, quindi andiamo ad appoggiare, ripartiamo dalla nostra tenuta addominale, una gamba e l'altra a tavolino, ruotiamo sempre verso l'esterno, questa volta portiamo i talloni in appoggio, quindi uno contro l'altro, piedi flex, andiamo a stendere entrambe le gambe, fuori l'aria, inspira, ritorna, fuori l'aria allunga, due, quindi manteniamo la nostra rotazione verso l'esterno, tre, inspira, ripiega, fuori l'aria, quattro e ritorna, spalle lontane dalle orecchie, cinque e ritorna, avanti, sei e ripiega, ancora allunga, sette e ritorna, stendi, otto, ultimi due, avanti, nove e ritorna, allunga, al dieci, ripiega, torna, riappoggia, ci giriamo sullo stesso lato su cui stavamo lavorando, riprepariamo la posizione, quindi qui solleviamo il nostro bacino, andiamo ad allungare il braccio sinistro oltre la testa, solleviamo leggermente anche la gamba e andiamo a portare il ginocchio al gomito, gomito al ginocchio e ritorna fuori l'aria, quindi registra una piccola discesa del bacino molto lieve e poi una risalita, quindi una spinta su quell'oblico destro per risalire, fuori l'aria, cinque e riallunga, avanti, sei e ancora, fuori l'aria, sette e stendi, avanti, otto, ancora gli ultimi due e riallunga, ancora uno, riallunga e anche qui piega, riporta le gambe una sull'altra, anche qui andiamo a allungare un pochino quell'oblico destro, ci prenderemo poi un attimo per allungare di più, guarda se vuoi verso i tuoi piedi e poi sciogli la posizione. Cominciamo la nostra sequenza di stretching con la posizione della sfinge, in cui cerchiamo di sollevarci sugli avambracci, quindi dalla posizione prona andiamo a pensare di aprire bene il petto, quindi di creare un pochino di allungamento tra quelli che sono le origini e l'inserzione dei nostri addominali, soprattutto il retto e l'addome, quindi il muscolo più superficiale dei nostri addominali, scarica bene le spalle, porta lo sguardo appena oltre le tue mani, quindi vai a cercare questa sensazione di allungo e proveremo da qui a creare una sorta di mucca gatto, quindi questa è l'estensione che ricorda un pochino la nostra posizione della mucca, andremo a premere, a fare retroversione, quindi porta a sollevarsi tutta la zona del bacino fino alle ginocchia, guarda verso le tue gambe e poi ritorna a cercare quell'estensione, apri bene il petto e di nuovo retroversione, spingi sui gomiti per curvare, quindi andiamo a cercare di nuovo quell'attivazione addominale e poi andiamo ad allungare invece, scaricando bene le spalle e di nuovo fuori l'aria qui e poi ritorna in estensione, ancora un paio se te la senti, di nuovo spingi delicatamente sulle braccia, quindi glutei si attivano qui e ritorna, apri bene il petto e facciamo l'ultimo movimento ancora, fuori l'aria curva, torna in allungo e ci fermiamo qui ancora per qualche secondo e quando scendi prova di varicare leggermente di più le tue gambe, le mani si posizionano un filo più indietro sotto alle tue spalle ma puoi sempre modificare la posizione in base alla sensazione che hai sulle prime ripetizioni e qui andiamo a estendere, quindi qui cerchiamo un'estensione diversa, un pochino più ampia, attenzione alla zona lombare, se c'è qualcosa che non funziona puoi spostare le mani più avanti in modo che l'estensione diventi un pochino più morbida, quindi sicuramente meno estensione con le braccia più avanti, più estensione se le braccia invece sono vicine al busto, ancora un paio di volte, solleva e ritorna, avanti ancora uno, sali, scendi e qui chiudi, porta le mani sotto alle spalle, andiamo a fare una piccola sosta nella posizione del fanciullo, quindi qui vai proprio a curvare la tua zona lombare, puoi anche separare le ginocchia e lasciare che il busto cada direttamente verso il tappetino, puoi massaggiare la tua colonna con un piccolo dondolamento destra-sinistra e poi quando è possibile, se possibile, stringi le ginocchia e srotola indietro, le mani scivolano verso le tue ginocchia e qui puoi ruotare un paio di volte le spalle indietro. Andiamo a strecciare invece i nostri flessori delle anche, quindi dalla quadrupedia porta il piede destro più avanti del tuo ginocchio, proiettiamo il peso in avanti accertandoci che la tibia destra sia verticale, puntiamo il piede dietro se possibile, attenzione alla rotula dietro, quindi attenzione al ginocchio, se senti fastidio puoi mettere uno spessore più morbido sotto quel ginocchio sinistro e fermati qui, ricordati che puoi sempre usare due blocchi di yoga per sollevare di più il tuo busto e evitare la sensazione di crollare sulla gamba davanti. Allunghiamo bene il flessore dell'anca sinistra, scarichiamo le spalle, cervicale lunga e qui puoi appoggiare la mano sinistra, andare a ruotare il braccio destro insieme al busto, puoi rimanere qui oppure provare ad agganciare la tua caviglia sinistra e tirare il talone verso il gluteo se possibile, ma continuando a spingere il bacino avanti in modo delicato e poi lascia andare la posizione, torna leggermente più indietro in quadrupedia, cambiamo gamba, quindi portiamo il piede sinistro più avanti, ci accertiamo quando affondiamo in avanti che la tibia rimanga verticale, puntiamo il piede dietro se possibile e ci prendiamo un attimo per rimanere, quindi anche qui la muscolatura addominale è attivata, qui principalmente invece quella profonda in modo da sostenere la colonna, non lasciare che in archi eccessivamente, ovviamente stiamo estendendo la nostra anca destra e la zona lombare è coinvolta, scarichiamo bene le spalle, poi qui puoi rimanere qui oppure appoggiare la mano destra, andare a ruotare verso sinistra, anche qui puoi rimanere oppure aperrare la caviglia e tirare delicatamente il talone verso il gluteo, portando sempre il bacino qualche millimetro più avanti e poi sciogli la posizione e qui ritorniamo in quadrupedia, passiamo verso una posizione invece seduta, comoda, il blocco di yoga che hai magari utilizzato per le mani può andare sotto al bacino per migliorare la posizione, ricordati che sollevare leggermente le tue anche ti permette di migliorare la sensazione non solo sulle anche ma sulla zona lombare, sulle ginocchia e sulle caviglie, quindi cerchiamo di creare sempre posizioni che non creino tensioni, allunghiamo bene verso l'alto, quindi senti gli schi, ritrova quell'allineamento testa sulle spalle, spalle in linea con le anche, un'apertura del petto, la sensazione di avere un filo che ci tira dal centro della testa e qui riprendiamo il nostro allungo laterale, quindi inspira, solleva il tuo braccio destro, fletti lateralmente, spingi via il tappetino con la mano sinistra, quindi scarica la spalla verso la quale stai andando, torna su al centro e scendi, braccio sinistro sale, fletti lateralmente, quindi spingi via il tappetino con la mano destra, allunga, ripasta dal centro e scendi e ripartiamo, allunga, fletti lateralmente, questa volta andiamo a ruotare verso il ginocchio, quindi se possibile aggancia il tuo ginocchio sinistro, gonfia la tua zona toracica, la zona costale alla tua destra, fermati qui un secondo e poi ritorna in rotazione, in flessione laterale e scendi col braccio, partiamo dalla parte opposta, quindi flessione laterale prima e poi andiamo a ruotare se possibile agganciando il ginocchio opposto, chiudi le coste verso il bacino, porta lo sguardo verso il bacino stesso e poi ritorna in flessione laterale, scendi e prendi un bel inspiro, porta le braccia verso l'alto, unisci i palmi delle mani sopra la tua testa, tira le mani davanti al petto e ci siamo. Ottimo lavoro, grazie mille per avere fatto questa sequenza insieme a me, spero ti sia piaciuta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se il video ti è piaciuto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, totalmente gratuito e attiva la campanella per rimanere in aggiornamento sulle prossime novità. Io ti mando un abbraccio e ti aspetto al prossimo video, a prestissimo! Grazie a tutti!